È stato recentemente pubblicato sulla rivista Arthritis Reumatology uno studio osservazionale multicentrico che ha coinvolto anche il nostro paese sull'impiego di mepolizumab del trattamento della granulomatosi eosinofila con poliangioite. Approfondiamo l'argomento con uno degli autori dello studio, il dottor Giacomo Emmi di Firenze, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buongiorno dottor Emmi e grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie mille a voi per l'invito. Allora dottor Emmi, molto brevemente, qual è il razionale di impiego di mepolizumab in questa condizione e attualmente come viene utilizzato? Allora, mepolizumab è un farmaco biologico che è in grado di bloccare l'interlochina 5, che è una citotina infiammatoria molto importante nell'asma eosinofilo ed è il motivo per cui la prima indicazione di questo farmaco è stata proprio in questa condizione con un utilizzo molto molto efficace e più recentemente è stato condotto uno trial, uno studio randomizzato controllato multicentrico che ha permesso di dimostrare l'efficacia di questo farmaco a un dosaggio superiore però a quello utilizzato normalmente nell'asma eosinofilo. Ricordo che nell'asma eosinofilo il dosaggio è di 100 milligrammi al mese sotto cute mentre in questo studio è stato testato il dosaggio di 300 milligrammi eh sotto cute al mese e questo dosaggio è dimostrato eh in circa il 50 per cento dei eh pazienti eh nel braccio di trattamento eh un'efficacia in termini non solo di riduzione del dell'attività di malattia ma anche eh di attività di malattia diciamo vasculitica ma anche un controllo della sintomatologia ovviamente eh respiratoria una riduzione del eh del dosaggio di steroide e come era da aspettarsi visto il meccanismo d'azione anche una riduzione della conta degli osinofili eh circolanti. Questo studio ha permesso quindi la recente approvazione da parte dell'FDA del farmaco negli Stati Uniti farmaco che invece ad oggi ancora non è approvato in Europa con questo dosaggio per questa indicazione. Ecco veniamo invece allo studio che l'ha vista protagonista e che obiettivi si proponeva e come è stato disegnato. Allora questo studio è eh uno studio retrospettivo multicentrico eh multinazionale ha coinvolto eh trentotto centri in eh Europa e eh considerando diciamo i maggiori centri europei che si occupano di questa patologia quindi non solo eh non solo l'Italia eh sono stati raccolti dati eh di eh più di duecento pazienti con questa patologia che ricorda una patologia rara quindi è stato diciamo uno sforzo che ha portato i suoi eh i suoi frutti ehm e diciamo utilizzando eh gli stessi eh gli stessi eh criteri le stesse definizioni di risposta utilizzate nel trial quindi nello studio che come dicevo prima ha portato all'approvazione del farmaco a dosaggio di 300 milligrammi siamo andati a valutare eh l'efficacia in quella che è considerata diciamo l'utilizzo nella pratica clinica ehm diciamo l'aspetto eh più importante di eh di questo studio è stato direi il confronto che eh ovviamente non poteva emergere dal trial fra il dosaggio eh utilizzato correntemente eh nel nello studio e quindi quello a trecento milligrammi da un dosaggio che invece è quello utilizzato normalmente per il controllo dell'asma e osinofilo a cento milligrammi eh questo perché perché noi sappiamo che questa malattia che è caratterizzata prevalentemente eh da sintomatologia respiratoria soprattutto all'esordio o nelle fasi diciamo in cui la malattia vasculitica è spenta il problema del clinico è quello di controllare proprio la componente respiratoria quindi l'asma e osinofilo e quindi diciamo i clinici evidentemente eh hanno ritenuto opportuno trattare la patologia con un dosaggio eh con un dosaggio inferiore. Ecco dottore passiamo ai risultati quali sono stati i risultati principali e soprattutto che cosa aggiunge questo studio eh anche dell'inquadramento del trattamento del mepolizuma per questa condizione? Allora il ehm risultato diciamo il primo risultato è che la maggior parte dei clinici in Europa quindi non è una eh diciamo così un'usanza solo eh italiana ehm ha utilizzato il farmaco al dosaggio di cento milligrammi quindi nella pratica eh clinica la maggior parte dei eh pazienti in Europa sono trattati con il dosaggio a eh a cento milligrammi per dare un'idea di ehm circa duecento pazienti eh più di quindi centosessanta circa pazienti sono stati trattati con il dosaggio a cento milligrammi e e poco più di una trentina invece al dosaggio di trecento milligrammi quindi questo direi che è un primo risultato molto importante perché ci dice che probabilmente per alcuni pazienti anche un dosaggio inferiore eh diciamo è preferito dal clinico eh in buona parte d'Europa. Come eh dicevo prima utilizzando gli stessi le stesse definizioni di risposta eh prevalentemente per la parte vasculitica e in parte anche per i sintomi respiratori non si sono eh viste differenze ai diversi punti tempo per un follow up per questi pazienti di ventiquattro mesi ehm non si sono viste differenze sostanzialmente eh fra il dosaggio di cento milligrammi e il dosaggio di eh trecento milligrammi in termini di efficacia di risposta diciamo vasculitica in termini di efficacia ovviamente di risposta eh per i sintomi respiratori in termini di riduzione dello steroide e anche in termini di di riduzione degli osinofri quindi eh anche se uno studio retrospettivo i due dosaggi sembrano questa in questo modo equivalersi eh direi anche in termini di eh sicurezza eh anche se eh un numero di eventi avversi maggiori è stato rilevato eh principalmente nel gruppo a dosaggio di trecento milligrammi e quindi il dosaggio a cento milligrammi quantomeno non appare avere diciamo così problemi sicuramente maggiori di quello eh di trecento anzi forse un profilo di elementi migliore. Ecco eh dottore per concludere so che è una cosa a cui lei tiene molto eh diciamo ecco lo studio è stato coordinato in Italia in seno al gruppo europeo per la granulomatose osinofilica. Cosa vuol dire per la ricerca del nostro paese? Allora eh penso diciamo per questo ambito anche se più piccolo delle malattie rare della delle vasculiti in particolare penso che significa una cosa ehm importante. Lo studio diciamo è stato eh pensato e ideato e scritto qui a Firenze il primo nome è quello della dottoressa Bettiol che è una ricercatrice della nostra università e e la collaborazione principale qui è nata poi con il gruppo del professor Baglio che è eh un esperto diciamo mondiale di vasculiti ma eh in realtà poi lo sforzo si è allargato molto come eh come diceva al eh gruppo di studio europeo per questa malattia che è un gruppo di studio che è nato nel duemiladiciotto eh è nato grazie alla cioè così alla collaborazione principalmente nella fase iniziale con il eh gruppo eh di studio delle vasculiti eh francese in particolar modo il professor Ferrier di Parigi diciamo che è stato il nucleo fondante ci sono stati poi degli incontri il primo proprio qui a Firenze a cui poi eh sono seguiti altri altri meeting ed è un gruppo che ormai coinvolge come dicevo numerosi centri eh in tutta Europa nella gran parte dei maggiori paesi che si occupano di questa patologia e che ha già diciamo eh sia in eh già conclusi ma soprattutto in essere molti studi eh clinici e non solo per una patologia che è rara e che quindi necessita per forza di cose di un gruppo eh numeroso per poter avere numeri che possano permetterci dare delle conclusioni solide quindi siamo molto contenti di questo grazie a tutti